Sicuramente Halloween è una delle feste più attese degli americani, soprattutto dai vippe che si sbizzariscono nel travestimento. Nel video potete vedere come numerosi protagonisti del jet set americano si siano sbizzariti nello scegliere il costume da indossare nei parti più esclusivi. Lady Gaga da Crudelia Damon, Leonardo DiCaprio con una maschera da mostro, Heidi Klum riconoscibili nel ruolo di Elettra. Nikki Hilton è travestita da Minnie, Gwen Stefani da Catwoman, Carter Hustle da ufficiale dell'esercito. Kim Kardashian ha addirittura scelto di indossare tre abiti, uno da cappuccetto rosso, uno da sexy pirata ed una tuta attillata da leopardo. Ma sicuramente chi ha fatto più parlare di sé è stata come al solito l'ereditiera Paris Hilton, che con un abito da pelle rossa a dir poco succinto ha lasciato pochissimo all'immaginazione. Il costume indossato ha tradito la bionda ereditiera, immortalata dai paparazzi praticamente nuda.